Arrivano sempre tantissimi video, noi gli diamo un occhio e poi proponiamo a voi quello che ci sembrano i più particolari. Quello che ci ha sicuramente colpito del gruppo che vi stiamo per presentare è il nome, loro si chiamano Sur Sum Corda e sono per l'appunto e con precisione Gian Piero, Francesco, Luca, Claudia e Pietro. Ecco, bisogna pulire un attimo l'ottica, pulisci, ecco pulisce il nostro operatore Checco, ecco fatto. Vi vedete, sono sempre io, la vostra lucillina. Vi dicevo, un grande grido di incitamento per questo nuovo gruppo, il loro pezzo si chiama Via! Via, col bisogno di partire, di vivere un sogno Via, il palpito del giorno, mi atteno a ogni attesa Perché le speranze no, non si abbandonano mai Solitaria, docile emozione Sale dolce e lenta Quaggiù e via Dalla palude di ogni cuore A trovar vita sotto il sole Perché le speranze no, perché le speranze no, non si abbandonano mai 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 Ciao A colorare il strade con il cuoio Che in erario nuovo è sana Giovani gruppi alla ribalta e nuovissimi pezzi alla riscosta